Cosa ne pensi delle macchine elettriche? Eh, le macchine elettriche sono una bella invenzione, però il problema è che se tu c'è la batteria scarica, no, devi andare all'ospedale, che fai? Aspetti di caricarlo o chiami la tua ambulanza? Ma un comico che ti piace? Beh, un comico che mi piace. Un comico che mi piace c'è, ma in questo momento non c'è più. Ed era il grande Gigi Piroietti, che non era un comico, ma era un maestro. Proprio con la M maiuscola, maestro. Poi se si parla di comici, Walter Chiari, Bramieri, quelli proprio che mi piacevano oggi non ci sono più.